Novità nella raccolta differenziata dei rifiuti e attivazione del trasporto sociale. Il Comune di Sapri ha avviato due importanti iniziative. La prima riguarda l'utilizzo di sacchetti in carta riciclata per la raccolta dei rifiuti organici e l'umido. Il progetto è sperimentale ed è stato presentato nel pomeriggio di ieri alla cittadinanza dal sindaco di Sapri Giuseppe Del Medico e dal direttore sviluppo prodotto della Sumus Renato Fancello. Al termine della presentazione si è svolta la consegna del kit alle famiglie coinvolte nella sperimentazione. Si tratta infatti di 100 nuclei familiari residenti in località Cantina di Sapri. Il kit è composto da un cestello areato da 10 litri, sacchetti in carta riciclata da 8 litri e un questionario dedicato. L'iniziativa all'intento di far crescere la percentuale di raccolta differenziata porta a porta appuntando al totale coinvolgimento dei cittadini, delle scuole e di tutte le realtà locali. Il secondo progetto invece riguarda il servizio di trasporto sociale in collaborazione con la pubblica assistenza GEO LUS che ha a sede a Sapri e che si è impegnata a garantire l'espletamento del servizio con mezzi e personale propri. Un'automedica adibita a servizio di trasporto sanitario, un'autista soccorritore addestrato a soccorso con attessato BLSD. Il servizio è garantito a chiamate e al proprio domicilio da lunedì al venerdì per un totale di due corse giornaliere da Sapri fino all'ospedale Immacolata, l'andata alle 8.30 e il ritorno alle 11.30. I primi tre sabati di ogni mese inoltre sono state istituite due corse giornaliere Sapri-Cimitero, andata alle 10 e alle 15 e il ritorno alle 12 e alle 16.30. Nel periodo essivo, nei sabati pomeriggio, l'andata è prevista per le 16, mentre il ritorno alle 17.30. L'ultimo sabato del mese, invece, le corse saranno effettuate con un mezzo idoneo ai portatori di handicap. Destinatari del servizio sono tutti i cittadini disabili del comune di Sapri e gli oltre 65 anni con limitate capacità motori.